Vai Diego! Sì, ho filmato Diego che scende dalla bici e prosegue a piedi, questo amici cari, ragazze e ragazzi, è un momento epico. Ragazze e ragazzi belli, oggi siamo in quel decisione di Valmarino, ci stiamo preparando per morire, oggi abbiamo con noi la Mary, il Greco, Pablo Escobar, Diego e Fabio. Praticamente l'itinerario prevede 50 km, quindi non sono tantissimi, ma con 1.100 di dislivello che io non ho veramente mai fatto, temo tantissimo, ci facciamo! Allora Marco, come ti sembra questo diretto? Bello panoramico, molto molto bello, ma siamo solo all'inizio. Non vedo il Garmin, non so neanche quanti chilometri abbiamo fatto e quanto dislivello. A volte è meglio non sapere. Cioè, la merda, la merda, la merda. Concentrazione. Grande Fabio! L'ultimo muro era un quindice, questo. Allora Diego, ora ci spiega quante altre salite ci saranno. Guardate che la vita è una salita, quindi praticamente influenti con il premoggio. Eh, senti la filosofia di Diego. Allora, brava beh, se c'è ancora una, molto molto tirata, e poi quella super finale che adesso lo dico in anteprima, Diego, non so se farò. Eh, ma che facciamo? Lo fai, lo fai, lo fai. Hai detto che lo facevi, pianino lo fai. Molto molto piano. Aspettate, il video durerà due ore e mezza, ma qua più a più a più. Ci si prova, dai. Sì. Ciao, guardate che scorci, che scorci. Grazie Marco per averci portato qui. qui. Prego. No, grazie Diego. Questa è una meravigliosa discesa al quindici per cento. Fabio, anche dai medici. Ci vediamo al lago. Speriamo bene, prima mi sono fatta un male. scambio. Tutto a posto, tutto a posto, ci si rialli. sempre più dura. Sempre più dura. dai Diego, facci volare. Allora sì. Ti devi dare il cazzo. brava. Mezza sentiero, brava. Io e Marco abbiamo una grande scommessa. Chi domani è messo peggio, dato il dislivello, eccetera, eccetera, e dovrà pagare un giro di go-kart. Coda! Cacchio! Sei tosta! Sono così stanca che non mi sposto neanche per farvi vedere. Sant'Augusto. Vi accontentate di mezza torre e della chiesa. un pezzo. È del lago, lo so. E si prosegue. Non c'è altro da fare. La testa, la testa, deve esserci la testa. La mia sta un attimo dando furfè. tutta testa, tutta testa, tutta testa. Ce la faccio. Madonna. Questa è stata l'ultima mega salita, ragazzi. Qua siamo in un posto fantastico. Guardate prima dove eravamo. Sant'Augusto, abbiamo salito fino a qua, penso. Qui siamo scesi, è stato il ponte, siamo risaliti. Adesso andiamo in cerca della Mary. Abbiamo perso il gribbo. Fabio e Diego hanno fatto un'altra strada. insomma tutto nella Norma. Andiamo. Siamo in dirittura derribo Che paesaggi ragazzi Ci siamo Ce l'hiamo fatta Bravi tutti Bravi tutti, bravo Fabio Allora raga Dobbiamo rientrare con una seta speedy Non ho capito cosa volete fare stasera Ci sentiamo via Whatsapp Grazie 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 Grazie